La volta scorsa siamo al capitolo 1 di Marco, avevamo letto e ci eravamo fermati sul versetto 1 e avevamo visto che già in 4-5 parole ci potevamo stare mezza giornata. Quindi questo per farci capire che se andiamo a prendere sul serio la parola, andiamo a spezzare sul serio la parola, ci accorgiamo che è veramente qualcosa di molto ricco. E oggi faremo dal versetto 2 al versetto 13. Come sta scritto nel profeta Isaia, Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i propri peccati. Giovanni era vestito di pelli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvati e proclamava «Viene dopo di me colui che è più forte di me e io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà il Spirito Santo». Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba e venne una voce dal cielo «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana stava con le pesche selvatiche e gli angeli lo servivano. Allora, il Vangelo di Marco subito dopo il titoletto che avevamo analizzato la volta ultima inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio apre subito un po' a sorpresa con una citazione che è questa del profeta Isaia. Se avete una buona Bibbia vedete che vicino alla citazione c'è subito il rimando incrociato al capitolo quaranta di Isaia che ci andiamo a vedere perché è importante capire in quale contesto Isaia sta parlando perché altrimenti non capiamo perché Marco lo mette lì all'inizio del Vangelo perché apre con questi versetti. Allora, andiamo da Isaia e andiamo a vedere cosa ci dice al capitolo. Consolate, consolate il mio popolo dice il vostro Dio parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per i suoi peccati. Una voce grida nel deserto preparate la via al Signore spianate nella steppa la strada per il nostro Dio ogni valle si è innalzata, ogni monte e ogni colle si è abbassata il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in ballato allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme lo vedranno perché la bocca del Signore ha parlato. Ci fermiamo qui A chi scrive Isaia? A chi sta a parlare Isaia? Dove siamo? Se non capiamo questo non capiamo perché Marco mette l'agitazione all'inizio Allora ci facciamo aiutare un po' dai titoli in rosso se avete le Bibbie C'è scritto Libro della Consolazione di Israele Annuncio della Liberazione Liberazione di Israele Israele non sta non sta in Palestina ma era stato deportato per cui è in cattività prigioniero quindi l'annuncio del profeta Israele quello che sta facendo in questo momento è l'annuncio della consolazione del Signore che sta per avvenire profetizza nel senso bello cioè nel senso non della profezia come no? come la spesso lo intendiamo noi è la profezia come un a predire il futuro ma come la parola di Dio che si attua nella storia sta profetizzando la consolazione che sta arrivando e il versetto 3 40,3 dice proprio questo una voce grida nel deserto preparate la via al Signore se fate caso c'è una differenza tra questo versetto e quello che cita Marco Marco gioca con la punteggiatura che fa? qui dice una voce grida due punti nel deserto preparate eh? Marco invece dice una voce grida nel deserto virgola preparate la strada cambia un po' eh? perché? perché Marco usa questa citazione per dire che in quel deserto che non è il deserto come lo intendiamo noi cioè quello con le dune, la sabbia no? con i cammelli le oasi con le palme ogni tanto poi chilometri, chilometri no deserto in questo senso vuol dire luogo solitario isolato eh? non vuol dire semplicemente un luogo geograficamente o fisicamente no? ostile alla vita deserto intende un luogo isolato lontano dal centro abitato preparate la via al Signore spianate la steppa per la strada per il nostro Dio cioè sta per avvenire qualcosa stiamo per entrare nell'avvento questa è una delle parole che che maggiormente si usano durante il tempo di avvento nelle letture anche domenicali questo questo brano di Isaia sta non mi ricordo in quale quale ciclo di letture ma sicuramente in uno dei tre cicli c'è no? come prima lettura di una domenica di avvento in cui si dice proprio questo preparatela via al Signore preparatela via al Signore il senso dell'avvento sta avvenendo sta succedendo qualcosa sta per compiersi qualcosa allora l'attenzione che Marco vuole mettere no? all'inizio di questo Vangelo sta dicendo guardate che quello che stiamo iniziando questo viaggio che stiamo iniziando non è un viaggio qualsiasi non è un viaggio qualsiasi ma è un viaggio particolare perché se cito Isaia vuol dire che si sta compiendo qualcosa di speciale si stanno compiendo le promesse messianiche cioè quello che Israele sta attendendo si sta avverando ok? per un israelita metterci questa parola era chiaro se questo è tratto dal libro della consolazione e tu me lo metti all'inizio mi stai parlando di qualcosa che sta avvenendo mi richiami preparate la via al Signore spianate le colline riempite le buche perché qualcosa di speciale quindi è una preparazione una preparazione è questa voce una voce che grida una voce che annuncia una voce che in qualche maniera sveglia per chi è stato in Terra Santa sa che la mattina presto c'è la gara tra le campane e i minareti a chi urla di più da parte sono le campane da parte ci sono i minareti che chiamano la preghiera e cosa dice nel minareto i muazzini quando chiama forza venite a pregare forza svegliatevi è un invito alla preghiera no? in una qualche maniera questa parola ricorda questo guardate sta succedendo qualcosa sta avvenendo qualcosa qui lo dico nel deserto dove non c'è confusione dove mi potete ascoltare perché se lo grido all'interno di una città in mezzo al mercato nessuno mi può sentire ma se lo grido nel deserto qualcuno mi può dire la mia voce può arrivare il deserto e dovremmo aprire qui una parentesi ampia che ci porterebbe molto lontano è un luogo speciale nella Bibbia non è solo il luogo inospitale ma spesso è il luogo dove si fa esperienza di Dio Israele per 40 anni attraversa il deserto ma non è perché attraversa il deserto perché questo deserto ci vuole 40 anni attraversarlo se finiamo la carta geografica diciamo ammazza quanto sarà presa come un deserto no ma non è quello il problema è perché deve scoprire chi è quel Dio che lo ha tratto dalla schiavitù d'Egitto e lo porta verso la terra promessa per 40 anni Israele farà esperienza di quella potenza di Dio in una qualche maniera perché nel deserto solo Dio potrà prendersi cura di Israele e quindi di fronte a questa parola c'è noi aspetteremo subito l'entrata di Gesù no non c'è l'entrata di Gesù è questa cosa particolare ma entra in campo quella voce chi è quella voce che sta gridando nel deserto chi è quella voce che sta annunciando qualcosa di epocale cioè un cambio d'epoca cambiamento totale Giovanni personaggio abbastanza misterioso questo Giovanni no perché compare nel Vangelo di Marco così non ci viene detto di chi è figlio e che faceva prima no compare così come la voce che grida nel deserto questa è la definizione di Giovanni e che fa nel deserto oltre a grisare quindi oltre a annunciare questa questa questo cambiamento che sta venendo battezza e proclama un battesimo di conversione e per il perdono dei peccati allora il termine battezzare che cosa vuol dire qui abbiamo fior fior di catechisti e quindi stasera ascolteremo cosa significa battezzare se vi vengono i bambini e vi dicono cara catechista che significa battezzare ti un minuto una domanda potete rispondere non è vietato Massimo ce la scumulica ma più più l'anellino non andiamo il rogo non ce l'abbiamo più l'abbiamo a pulito immersione un termine etimologicamente significa immergersi no e che cosa vuol dire immergersi cambiare situazione cambiare e questo è già un passo successivo c'è il passo prima bagnarsi no bagnarsi quindi che quando che facciamo quando andiamo tra l'acqua lavarsi ecco la prima cosa che fai quando te bagni te lavichi cioè quindi è un togliere un togliere la seconda parte poi la rigenerazione ma questa è la lettura successiva se stiamo al termine proclamava un battesimo di conversione e perdono e peccati il senso è un senso strettamente noi diremo penitenziale no dove il termine penitenziale non vuol dire come spesso lo pensiamo noi no riferito alle penitenze ma il senso proprio della conversione cioè il cambiamento e rispetto a questa cosa del cambiamento i versetti successivi ci aiutano perché perché al versetto 5 si dice questo si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati quindi non stiamo parlando dello stesso battesimo che riceviamo noi che ha tutta un'altra fase tutta un'altra valenza ma stiamo parlando di un segno penitenziale cioè l'andare dal Giordano nel Giordano con Giovanni voleva significare un cambiamento di vita quel cambiamento di vita che era richiesto dal profeta spianate spianate no le colline attappate le buche ecco cioè la preparazione diremmo noi la preparazione cioè il far posto il far sì che quello che sta per accadere possa trovare spazio e la cosa particolare che Marco sottolinea è questa accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme qui chiaramente Marco calza un pochino la mano per farci capire che c'era tanta gente adesso non penso che c'era tutta la Giudea adesso per capire no la Giudea è questa zona qua questo è il Giordano che scende giù no la Giudea è tutta questa zona qui no ed è la zona dove sta Gerusalemme quindi è una regione molto grande molto estesa e però Marco voleva dire che in una qualche maniera quello che stava accadendo andava a toccare il centro della fede di Israele perché? perché la Giudea è la capitale Gerusalemme e in una qualche maniera la capitale della fede quindi che fosse tutta la Giudea voleva dire che in una qualche maniera una grandissima una grandissima parte di questa era sensibilizzata da questa figura profetica di Giovanni e poi Marco che non dice mai parole in più scappa fuori con la descrizione di Giovanni e questa descrizione a noi ci interessa molto ci interessa perché ci sono delle sottolineature che ci fanno un po' capire cosa vuole dirci Marco e vediamo versetto 6 Giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi fermiamoci al vestito che vi ricorda Giovanni vestito così di pelle Adam 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 l'ha detto che è giusto Adam quando è che Adam veste di peli all'inizio all'inizio erano nudi no all'inizio è nudo e chi è si accorse di essere nudo è lui che si veste con le pelli o viene rivestito da qualcuno no capitolo 3 di Genesi dopo la mila capitolo 3 di Genesi si accorse di essere nudo si accorse di essere nudo dopo aver mangiato la mila è il passo dopo a noi ci interessa quello che succede dopo la cacciata dall'eree dall'eree se perde di essere nudo E' Dio che dopo averlo cacciato Non lo molla nudo Che atteggiamento strano Dio che è arrabbiato Lo toglie dal giardino Ma non lo lascia nudo Lo riveste Lo riveste di tuniche di pelle E Marco in qualche maniera Sta dicendo Attenzione Che quello che sta accadendo Riguarda una Ripartire dalla creazione Novi reazione come la Andiamo a nuove scuola Ale o Se fa merenda No? Reazione per Cioè un ripartire dalla creazione Ok? Una ricreazione Una ricapitolazione Dira Paolo Nelle sue lettere Cioè sta dicendo Quello che sta avvenendo lì In quel punto sperduto Del Giordano Sa in qualche maniera Di un nuovo inizio Poi lo dice così esplicitamente Lui dà delle tracce Non è così Vuole dare gli indizi Siamo noi che dobbiamo poi Andare a ricollegare i pezzettini Del paso Isaia Isaia sta dicendo E arriva qualcuno Questo qualcuno Ma è vestito Guarda caso Come Adam Eh guarda caso No? E guarda caso Che fa Vestito Con la cintura di pelle I pelli di gammello Eh? Mangia cavallette E miele selvatico E chi è che mangia Il miele selvatico? Capitolo undici di Isaia Sempre che in avvento Si legge anche questo Eh? Però Un germuoglio spunterà Dal tronco degli essi Un virgulto germoglierà Dalle sue radici Su di lui si poserà Lo spirito del Signore Spirito di sapienza E di intelligenza Spirito di consiglio E di fortezza Spirito di conoscenza E di timore del Signore Si compiacerà Del timore del Signore E non giudicherà Secondo le apparenze E non prenderà decisioni Per sentito dire Va avanti No? Eh? Il lupo dimorerà Insieme con l'agnello Il leopardo Si sdragherà Accanto al capretto Il vitello Eh? Tutta questa lunga Discrizione Che troviamo E non leggo Perché se no Ci vuole mezz'ora In più solo su questo Sta parlando No? Di una figura Di una figura misteriosa No? Il discendente di Davide Il titoletto Ma che in una qualche maniera Richiama Una situazione Come? Paradisiaca Se il capretto Sta con il lupo Il leone Sta con l'agnello E nessuno Se mangia L'altro Non è perché Sono diventati vegani Tutti quanti Ma perché No Ma perché No C'è una situazione In cui La violenza Non esiste Più Il segno Della crudeltà Non perché I leoni I lupi Siano crudeli Ma perché No Spargimento del sangue Nel senso Della crudeltà E il fatto Che c'è Questo bimbo Che mangia Il miele selvatico No? Il miele Riesce Lattante Che Si trastulla Con la vipera No? Fa Un'idea Di una Natura Che non ha più Quel senso Di violenza E in qualche maniera Giovanni Richiama questo Richiama questo Perché È lì Che mangia Cavallette Miele selvatico Cioè Non sta Non va a caccia Non fa niente Si nutre Di quello Che la natura Gli dà Giovanni Non è Il messino È chiaro Perché La voce Di grida Del deserto Però Ha degli indizi Che richiamano Che quello Che sta Per entrare Quello Che sta Per avvenire È la È qualcosa Di straordinario Non lo diciamo Cosa Perché No dobbiamo Scoprire No Allora Non si anticipa Ma la finale Del film Però Bisogna Andare Per tappe E la domanda Che poi Vedremo Che c'è sotto Marco È sempre Questa Ma allora Chi è Gesù Chi è Gesù Ancora Non l'abbiamo Visto Gesù Non è entrato In scena Ancora Stiamo parlando Di Giovanni E ancora Fa un'altra Operazione Versetto 7 Viene Dopo Di me Colui Che è più Forte Di me Io Non sono Degno Di chinarmi Per slegare I lacci Dei suoi Sandri Io Vi battezzo Con acqua Ma Egli Vi battezzerà Il Spirito Santo Quello Che sta Dicendo Giovanni E' qualcosa Che può essere Detto Prima della Pasqua No No Perché Perché la Pentecoste E' qualcosa Che viene Dopo Pasqua Cosa fa Marco Sta Mettendo Sull'alto La La sua Comunità Dicendogli Guardate Il battesimo Di Giovanni La persona Di Giovanni E' semplicemente L'ultimo Dei profeti E' l'ultimo Indicatore Indicatore E' l'ultimo Indicatore Prima Dell'avvento Di colui Che stavamo Aspettando Che ancora Non dice Chi è Non affrettiamoci A dar subito Definizioni Ma è l'indicatore Perché Perché Giovanni Stesso Diceva Io Non sono Colui Che state Aspettando Ma verrà uno Più forte Di me Al quale Io Non sono Neanche Degno Di legargli Per dire Il livello E' talmente No Fortale Mortalmente Differente Che non lo possiamo Manco Non mi posso Manco Paragonare E poi Sarà forte Perché Quella scena Successiva In realtà Fa vedere Un capovolgimento Per cui Giovanni Avrà una crisi Esistenziale In un momento Della sua vita Proprio per Quel capovolgimento Non lo racconta Nel Vangelo In questo In questo Episodio Iniziale Ma poi Sappiamo Che Giovanni A un certo Punto Proprio perché Confuso Dai segni Di Gesù Dirà No Ma sei proprio Tu O dobbiamo Spottare Qualcun altro Quindi vuol dire Che nella testa Anche Giovanni C'aveva un po' Di confusione Quindi L'aspetto Che Stava Sottolineando Giovanni È Qualcosa Che sta avvenendo Di cui lui È protagonista Ma semplicemente Perché È l'annunciatore Lo spirito santo Giovanni Non sa cosa sia In una qualche maniera Così come lo intendiamo Perché È Effetto Della Pasqua Solamente A Pasqua Venuta Ma Marco Scrive In Un contesto Post-Pasquale Sta facendo La cronaca No Di quello Che Giovanni Diceva E faceva Quando Leggiamo I Evangelii Avevo detto L'altra volta Mi ricordo Per chi non c'era Lo ripeto Anche per la telecamera I Evangelii Sono Una lettura Post-Pasquale Cioè Un rileggere Gli eventi Della vita Di Gesù Alla luce Della passione Morte E Ressurrezione Se non capisco Questo Non capisco Alcune situazioni E diventano Conflittuali Come faceva Giovanni A dire delle cose Rispetto alle quali Non aveva ancora Minimamente Possibilità Di conoscere Sì potremmo dire Sì ma Lo spirito Il Signore Gli ha suggerito Ma tutti quelli Che dicevano Arriva uno Che vi manda Lo spirito santo E quell'altro Che ha detto Che è sto spirito santo Adesso Che vuol dire Cioè Cose che per noi Chiaramente sono scontate Ma perché siamo Figli della Pasqua E quegli altri Prima non erano Figli della Pasqua Ancora Andavano lì A convertirsi Quindi Una lettura Dello spirito santo Non ce l'avevano Non credevano Mica alla Trinità Pogapri Gli avevano Totalmente altro Impronunciabile Non si scrive Non si disegna Non si Figuriamoci se Possiamo Parlando di uno Spirito Mandato da Yahweh Non c'è Non esiste Quindi L'idea È questa Allora Di fronte A questo C'è un battesimo Quindi che viene Annunciato da Marco Un battesimo Che ha Un'area C'è un battesimo Ben differente Dove non ci si immerge Più dentro L'acqua Ma ci si immerge In qualcosa Di differente E qui il problema Che cos'è Il battesimo Nello spirito santo L'acqua Lo capisco La tocco Mi bagno Ma lo spirito santo E quindi Questa Di Marco È semplicemente Un'apertura Per dire Non abbiate fretta Ogni cosa A suo tempo Ancora stiamo A voce di uno Che viene dal deserto Stiamo ancora All'inizio Cambio di scena Ovvero Cambio Entrata in scena Di un nuovo personaggio Ed ecco In quei giorni Gesù Venne da Nazareth Di Galilea E fu battezzato Nel Giordano Da Giovanni Ora Quello Che ci racconta Marco Come vedete È tanto sintetico Se leggiamo Luca Se leggiamo Matteo Su questo Danno tante sfumature In più Nel racconto Marco rimane Tanto sintetico Ma ne c'è sempre L'essenziale C'è sempre La cosa Importante È solo che bisogna Sempre andarla a cercare Ma c'è Gesù Viene da Nazareth Dopodiché Beh Non è stato fino adesso A Nazareth Qui c'è un problema Da Nazareth Da Nazareth Non c'è sulla cartina Eccolo Sì c'è Stava qui Non era in Galilea Era in Galilea Non era in Giudea La Galilea Galilea delle genti Una regione De Bastardi Mischiati Con quell'altra Non c'avevano Lingua propria Parlavano Un dialetto L'aramaico Che non Si riesce Neanche a capire Che il dialetto Era Adesso No Quindi Nazareth Nazareth Il Messia Da Nazareth Se può sentire Cioè Per un israelita Parlare di Nazareth Dice Vabbè Come se sei venuto Da Rocca Cannuccia Ecco No Spia di tutto Io per un greppo Sta in mezzo alle montagne Ma Se può sentire Capito Cioè Noi No per noi Sono cose Che ormai Siamo abituati Gesù Dice Ah sì Ma Nazareth Era un paesetto Una cosa No Non era Cioè Il Messia Non viene da Nazareth Tanto che Uno dei discepoli Che dirà Quando gli dicevano Abbiamo trovato il Signore Ma può venire mai qualcosa di buono da Nazareth Proprio lo dice Proprio lo dice proprio chiaro Splicito La citazione No E questa Può venire mai qualcosa di buono da Nazareth Cioè Stavo a scherzare No Culturalmente Pecore Capre Un po' di contadini Così niente Economicamente zero Cioè Non c'è niente da Nazareth Che può venire Come fa Quell'immersia da Nazareth E Marco Marco Invece Non lo dice Venne Gesù Si fai le battezzate Poteva dire così No Sottolinea Che Gesù Viene da Nazareth E che viene da Nazareth Lo sottolinea Perché sta dando un messaggio Qualcosa sta cambiando Qualcosa sta cambiando Qualcosa sta avvenendo E non avviene secondo quello che pensate voi Ma secondo altri schemi Quindi qui cominciano a scricchiolare tutti i sistemi Dei teologi Non quelli nostri Ma quelli dell'epoca No Perché Il messia doveva venire Ma non da Nazareth E c'è La prima Epifania Che vuol dire manifestazione Vide squarciarsi i cieli E lo spirito Discendere verso di lui Come una colomba E venne una voce dal cielo Tu sei il figlio mio l'amato In te ho posto il mio compiacimento Punto Scena Incredibile Gesù Si mette In fila Con tutti gli altri peccatori Con tutti i poveri Cristi Si fa Battezzare da Giovanni Lui che diceva Avviene uno a cui non sono degno No Di sciogliere il laccio Che fa Gesù Si fa battezzare da Giovanni No Perché avesse bisogno Nel battesimo naturalmente Ma perché ci potesse essere Quella manifestazione Quella epifania In mezzo Ai peccatori Tu Sei il figlio mio prediletto Nel quale Mi sono compiaciuto Punto In quella situazione Sta avvenendo Qualcosa di Evoluzionario Mettetelo voi L'aggettivo Sicuramente qualcosa di epocale Vedete come Marco Ha costruito Questo brano Eh? Noi Siamo abituati a sentirlo Ma quando lo cominciamo A spezzettare Vediamo che dietro C'è tutto un percorso Che Marco Vuole farci fare E la citazione E Giovanni Vestito in quella maniera Mangia così Sta in quel luogo Quindi richiama Privi Priva E Gesù Che arriva dalla Galilea E perché arriva dalla Galilea Questo Messia Perché Si mette in fila con i peccatori Che senso ha? Poteva farne tranquillamente A me Chiedetevi sempre il perché Anche se non è facile a volte rispondere Però chiedetelo perché Sotto c'è il perché Le cose non vengono mai scritte Per caso Ecco Per caso Nella parola di Dio Non esiste Nel Vangelo Non esiste Se l'Evangelista Lo racconta In quella maniera È perché Un motivo C'è Sempre Sempre Fine della scena Cambiamento di scena Lo spirito Spinse nel deserto Gesù E nel deserto rimase Quaranta giorni Tentato da Satana Stava con le bestie selvatiche E gli angeli lo servivano Lo spirito Spinge Gesù Nel deserto Abbiamo detto Che il deserto Non è quello De sabbia Con le lume Con i gammelli Ma È Un luogo Solitario Per quaranta giorni Quaranta giorni Dove Gesù Chiaramente Riaggancia Quello che erano I quarant'anni Siamo nel momento In cui ancora Gesù non ha detto Una parola Se ci facciamo caso Fino adesso Gesù non ha detto A, B, C Niente Ha detto Sta per succedere Gesù in questo momento È un protagonista Silenzioso Sta facendo cose Ma non sta dicendo Nulla E in questo suo inizio Sta però ponendo Dei segni particolari Il primo Quello di farsi Battezzare Il secondo Di andare Nel deserto E Come le racconta Molto In maniera Easy Diremo oggi Molto sintetico Molto semplice Marco No Le tentazioni Di Gesù Non ci stanno I tre episodi Classici Viene portato qui Viene portato da No Lui dice Che viene Tentato da Satana E nella tentazione Però C'è un altro segno Che è Quello che abbiamo Richiamato prima Nel capitolo 11 di Isaia Stava con le bestie Selvatiche E gli angeli Lo servivano Cioè Segni Chiari Che Gesù In una qualche maniera Chi è? Un abitante del paradiso Messia Un abitante del paradiso Un abitante del paradiso Un nuovo Adamo Perché Chi è che sta In pace Con le bestie Selvatiche E gli angeli Lo servono Solamente Un nuovo Adamo Tentato Da Satana Come Il vecchio Adamo Ma non più Non più Corrottibile Tentato Sì Il vecchio Adamo Cade No Il nuovo Adamo È tentato Ma Resiste Non è attaccabile Quindi Marco In questo primo capitolo E ci ha detto E ci ha detto già Tanta roba Tanta roba Su Gesù Perché Ce lo dobbiamo Ricordare sempre Lo parlarete a memoria Anche gli amici da casa Qual è la domanda Che c'è Sotto i primi Otto capitoli Marco Marco Chi è Gesù In coro Chi è Gesù Punto interrogativo Marco Non sta proponendo I discorsi I discorsi di Gesù Per farci vedere Quanto è bravo Gesù Ma per Farci Camminare Alla scoperta Dell'identità Di Gesù E non lo fa mai In maniera Sfacciata Come diremmo Noi Cioè Non è che ci dà la definizione Il catechismo Chi è Gesù È Gesù È il figlio di Dio Privi 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 No Dà la pappardella La definizione Da catechismo No no Sta dicendo Alla sua comunità Gesù Così si è presentato Così ha iniziato Così ha messo In gioco La fede Di quegli Che Lo hanno incontrato E Le prossime volte Continuiamo proprio questo viaggio Con Marco Le prossime volte Continuiamo a Scoprire E in una qualche maniera Vedere come Marco Ci vuole far conoscere Fino in fondo Gesù Ma non il Gesù Che ci abbiamo dentro la testa A noi Ma quello Che È morto E risolto Ecco perché Chi Come noi Si approccia Al Vangelo di Marco Si approccia A questa domanda Fondamentale E la prima domanda Che Che vi lascio Come provolgazione È Chi è per me Gesù? Perché se non metto in gioco Questo Nella mia vita Non posso far spazio A quello che mi propone Marco In una qualche maniera Quello che deve prendere la ruspa Per abbattere le colline E spianare la strada Sono io Sono io Per permettere che Quello che viene annunciato Dalla parola Possa essere Quello che incontro Non con i miei pregiudizi Ah ma tanto Io lo so Che Gesù Mai 40 anni Caspita Ormai Mi avevano a testa tanto No? Ma per scoprire E riscoprire Quello Che Gesù Ha detto di sé Attraverso Quei Quelle parole E quei gesti Capite che Significa fare un passo indietro Per noi Significa in una qualche maniera Rimetterci in gioco Di fronte a questa parola Allora Il primo Primo movimento Di Del luminare Come dicevo La volta ascolta La luminazio Cioè Il prendere la parola Stasera Ho preso tanti input Ma I giorni prossimi Sarà quello Di riprendere Quella parola Di aprirla Mangiarla Rimasticarla Poi far ripassare Un altro po' di tempo E riaprirla Leggerla Rimasticarla Ancora Perché altrimenti La roba Passa Dentro di noi E Via Fugge Ok Sarà proprio questo Primo impegno Rispetto alla parola Allora sì Che l'Alezio Diventa Non Una catechesi Ma diventa Qualcosa che Permette alla parola Di entrare Nella mia vita Perché permette Alla parola Di convertirmi Non nel senso Che intendiamo noi Cioè Quello di Farmi diventare buono Non è questo Lo scopo della parola Lo scopo della parola È quello di farmi conoscere Chi è veramente Gesù E per me La conseguenza Sarà che diventerò Un discepolo Forse Se accolgo quella parola Ma la conversione Non è un fatto morale Un fatto esistenziale Ed è data dal fatto Che accolgo Un rapporto Una relazione Nuova Con Gesù E allora Per far questo Ci vuole Tempo e spazio Il tempo Di prendere la parola E di dargli No? Permettergli Di ritornare E solamente Quando faccio Questo passaggio Poi La mia preghiera Diventerà una preghiera Autentica Non più una preghiera Data dal pregiudizio Ma data Da quello che Sto scoprendo Perché quando mi scopro Questo Gesù Che si mette Con i peccatori E si presenta come Il nuovo Adamo Ma un nuovo Adamo Che non viene Da Il centro del potere Da Bethlehem Da Gerusalemme Ma viene Dalla Galilea delle Genti Da Nazareth Capisco che Gesù sta facendo Un giro Tutto particolare Mi sta dicendo Che Il Dio Che mi sta Vuole mostrare È un Dio Ben diverso Da quello Che mi sono costruito Dentro la mia testa E per fare questo Devo permettergli Di fare Di farvi fare Il percorso Con me Ecco La conversione Cioè proprio Il cambio Della Della testa Quindi Capite che Questo Da una parte Affascinante E da una parte Però esigente Perché richiede Veramente Di un momento in gioco Ok Questa sera ci siamo Grazie a tutti